Non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno, il podcast, il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Bella, puntata numero 20. Ed ecco il podcast del giovedì per la community di Non ci ferma nessuno Italia Talk. Ogni giorno raccontiamo le emozioni del tour, delle tappe precedenti, di quelle future, grazie ai protagonisti di questo incredibile viaggio nell'entusiasmo tra gli studenti universitari italiani. Mentre cresce l'attesa per la terza tappa, io vorrei soffermarmi sull'estrema sensibilità del mondo accademico alle necessità dei ragazzi. I rettori e i docenti delle varie università sono sempre molto collaborativi, apprezzano gli stimoli giusti che possono arrivare agli studenti ed è bello ritrovarsi a progettare insieme il percorso motivazionale al quale teniamo tanto. Nell'ultima tappa, per esempio, l'affetto del rettore dell'adannunzio Sergio Caputi è stato quasi commovente. Tu porti sempre una ventata di novità, di coraggio ai ragazzi. È sempre un piacere partecipare a questo tuo programma itinerante, se lo vogliamo chiamare così. Quello che tu stai facendo è bellissimo. Oltre a darti i ringraziamenti dell'Ateneo, ti devo dare fare i miei ringraziamenti personali, perché davvero, davvero è una cosa molto, molto grazie. Credo sia questo lo spirito giusto che deve accompagnare uno sforzo comune, finalizzato alla crescita di chi, specialmente in questo periodo delicato, deve essere sostenuto e incoraggiato a non abbandonare i propri sogni. Argomenti sui quali ci siamo confrontati spesso anche con la prorettrice Augusta Consorti, che ha ormai adottato il nostro progetto con entusiasmo invidiabile e lo accompagna per mano sulla strada diretta al cuore dei ragazzi. Abbiamo bisogno in questo momento ancora di più di queste attività, di queste presenze. I momenti di riflessione come questi sono davvero momenti importanti. Riesci ad affrontare, a far affrontare i giovani temi importantissimi e dunque anche questa volta Luca bentornato. Il calore, la passione e l'accoglienza di chi dirige le università è qualcosa di straordinario e riesce miracolosamente ad accorciare le distanze imposte dalla pandemia in corso. Noi siamo certi che ci riabbracceremo presto, intanto possiamo essere fieri di aver scritto ancora una grande pagina della storia di questa incredibile campagna sociale e noi continueremo a contagiarci di coraggio, domani in un nuovo podcast. Avete ascoltato Non ci ferma nessuno? Il podcast. Ascolta tutte le puntate su noncifermanessuno.net Non ci ferma nessuno? Non ci ferma nessuno? Non ci ferma nessuno? Non ci fermaielo? Grazie a tutti